e buongiorno buongiorno a tutti cari se sentite il rumore di tagliaerba perché qui ci sono persone chiaramente abito io quasi in campagna per cui c'è gente che la domenica se ne approfitta per fare per fare per tagliare erba mentre io me ne approfitto chiudiamo un po perché sennò mentre io me ne approfitto per tagliare incredulità per tagliare ignoranza per tagliare tutto ciò che diciamo non è buono bene oggi voglio parlarvi un pochettino stamattina dell'importanza dello homeschooling o della scuola parentale intanto per quanti non lo sanno mio figlio Jeremy questo è il primo anno che sta facendo homeschooling quindi scuola parentale ha seguito il programma ha seguito le indicazioni statali perché attenzione non ti segui il programma se ti dicono che si deve seguire il programma della scuola è una fesseria non ti stanno dicendo il vero perché si segue si segue le direttive statale piuttosto che il programma statale perché ogni scuola ha il suo programma quindi se voi vedete il programma di una regione diverso dall'alto anche le province sono diverse bene dicevo che Jeremy è stato è stato idoneo alla per la prima media quindi ha superato gli esami della scuola media e della scuola elementare scusate per andare al alla prima media prima 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 media quindi quindi cosa volevo dirvi stamattina quindi questa dimostrazione che l'istruzione si può fare benissimamente anche a casa con i propri familiari attraverso internet mi ha aiutato ognuno poi trova il suo trova il suo rigagnolo e stamattina prima di prima che prima che Jeremy intraprendesse questo questo questa avventura della scuola parentale io mi sono mi sono informato letto io mia figlia giusi che noi siamo così siamo delfini curiosi ci studiamo nelle cose prima che prima che approfondiamo certo dio prima ci dà una certa lungimiranza ma poi vogliamo camminare con i piedi per terra come dice la Bibbia che la Bibbia ci insegna che ogni cosa che dobbiamo fare dobbiamo studiare riflettere ponderare addirittura nella risposta il giusto medita come deve rispondere bene abbiamo letto diversi libri che ho consigliato ho messo anche su facebook sui nostri gruppi whatsapp oggi voglio proporre questo libro questo libro lo sto leggendo infatti sono qui per leggerlo stamattina me ne sono andato a prendere la macchina dal mio garage prima che me lo chiudano e poi vado mi vado qui a mettere vicino c'è qui tutto erba campagna ma vado a leggere un qualche capitolo di questo libro che si intitola non sono mai andato a scuola storia di un'infanzia felice di André Stern ed è una persona che non è mai andata a scuola i suoi genitori non erano non erano scappati di casa i primi scappati di casa suo padre era un grande pedagogo insegnante eccetera e lui e lui c'è proprio questo questo libro che potete trovare su amazon attenzione non è non è un libro cristiano attenzione non è un libro cristiano ma è un libro che dove io osservo come delfino curioso osservo 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 leggo perché nell'osservare posso prendere principi posso prendere aneddoti ispirazioni e quindi leggo esaminato ogni cosa dice la bibbia ritenete il bene prendete il bene quindi io posso esaminare ogni cosa non solo libri cristiani ma certi libri che mi possono aiutare a svegliare i miei neuroni e potere capirci qualcosa quindi lo sto leggendo e mi piace perché veramente un'infanzia felice chi fa un homeschooling chi fa scuola parentale ha un'infanzia felice nel senso che non è non ha paura di andare lì ora la maestra ora il maestro il professore devo fare gli esami mi metterà mi metterà promosso bocciato mi metterà 5 4 la valutazione sarà scarsa e si vive con questo stress con questo pericolo di questo infatti se vedete molti che studiano nelle nelle scuole come le conosciamo noi tradizionali sono stressati sono stressato hanno bisogno del professore hanno bisogno del medico che ti dà dei calmanti per calmare per calmare la follia dei genitori perché fondamentalmente si è andata a vedere poi sono i genitori che spingono che spingono che spingono e che spingono assolutamente spingono assolutamente questi ragazzi che fondamentalmente non ne hanno nessuna voglia di fare questi di fare questi ragionamenti di fare queste cose di fare questi studi a volte lo fanno per i genitori ma non mi interessa quindi un'infanzia felice la vive chi non ha paura continuamente costantemente dell'interrogazione che studia perché ha voglia non che si istruisce perché ha voglia non perché è costretto a fare così se non non adempie i desideri dei genitori eccetera se non nel collettario 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 collettorio se non nel nello scenario collettivo nello scenario collettivo che deve dire a gente che io non ho il diploma non ho la laurea non ho il diploma che poi in caso mai finisce la carta igienica lo posso utilizzare scherzo lasciatemi così pensavo ad altavoce quindi quello che voglio dirvi come dice andré stern una storia una storia di un'infanzia felice a volte certi bambini non hanno infanzia felice l'interrogazione a scuola stare cinque sei ore lì seduti e poi a casa devono fare i compiti che vita stressante schifosa permettetemi che dica questo totò diceva che nausea non che nausea che nausea una vita così è una vita stressante pressante alzarti presto la mattina con il freddo perché devi andare a scuola è tutto stressato e poi stress cinque ore lì poi ritorni a casa in classe stress e stress perché ti devi confrontare perché lo stress perché gli insegnanti poi sei impreparato chissà cosa pensa poi arriva a casa di fare i compiti se sapevo queste cose prima potevo essere meno stressato io mia moglie e i miei figli invece no perché 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 si va sempre con doveva tutta la corrente perché a volte non sia il coraggio al coraggio a volte non sia il coraggio di uscire fuori la massa a volte non sia il coraggio di andare contro corrente a volte non sia il coraggio perché per paura della gente per paura per paura di studiare qualcosa che non hai capito così sei più libero ma meglio cielo di bosco che cielo di gabbia quindi non so non l'ho letto tutto per cui è molto autobiografico questo libro per cui penso che non fa del male fa del bene a me mi sta mi sta appassionando storia di un'infanzia felice per così posso applicare certi principi a me stesso capirci di più di quello di questo percorso di homeschooling che stiamo facendo di questo percorso di scuola parentale che stiamo facendo ma anche perché con essendo un pastore essendo anche un pastore consulente posso consigliare agli altri anzi per chi vorreste una consulenza privata su whatsapp in video in audio o telefonicamente sappiate che faccio anche delle consulenze per gli iniziati dell'homeschooling per coloro che vogliono fare un percorso di scuola parentale scuola e homeschooling magari non sanno come muoversi cosa fare le leggi statale cosa dicono le leggi non ci stiamo preparando siamo abbastanza preparati non dico che siamo chissà narca di scienze però insomma quello che sappiamo funziona funziona quindi bene io vi lascio perché vado a leggere qualche capitoletto di questo andre sterne non sono mai andato a scuola storia di un'infanzia felice cerco di prendere più spunti possibili più spunti immaginabili ma mi piace qualcosa vediamo se riesco a trovare quello che ieri mi ha colpito ve lo voglio leggere perché mi ha veramente colpito questa frase a parte che sto male gli dicevo gli leggevo il libro gli leggevo il libro dal titolo dal titolo le memorie di un asino questo qualcuno lo dovrebbe leggere questo qualcuno lo dovrebbe leggere dice dice andre andre sterne in questo libro in questo libro dice che vi sono dei processi di apprendimento che sono interne e restano invisibili cioè noi noi non impariamo o meglio i bambini non imparano solo attraverso delle delle lezioni dei metodi nemotiche cioè a mente a imparare a mente ma vi sono dei processi di apprendimento che sono interne e restano invisibili ma comunque stai apprendendo comunque stai capendo comunque stai 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 ricevendo bello questo mi piace e dicevo così inoltre alcuni processi di apprendimento sono sono esterni e restano invisibili sia gli occhi della persona in questione sia quelli che dico loro di coloro che ti circondano lo scopo qui è apprezzante l'intensità e la diversità molte di queste occupazioni e preoccupazione esistevano contemporaneamente e insimpiosi si sostenevano si alimentavano si arricchivano si stimolavano e a volte si generavano a vicenda altre non strettamente legata agli impegni della struttura settimanale poi parla di se stesso ma lui qui sta dicendo sta dicendo questo 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 personaggio dice che ci sono dei processi noi nei ragazzi che tu sembra che non stanno imbarando ma stanno imbarando sai quando i bambini magari ti fai un discorso sembra che sembra che sembra che non ti seguono poi all'improvviso li senti ragionare tu dici caspita ma allora mi ascoltavi quando quando io parlavo e sembrava che loro erano disattenti disinteressati invece non è così e mi piace perché in questa in questo capitoletto in questo libro in questo libro andre stern dice dice molti di questa occupazione no dice così dice dice che questi processi di apprendimento sono interni e restano invisibili sia gli occhi della persona in questione sia quelli di coloro che lo circondano ci significa che noi stiamo imparando stiamo imparando nonostante stiamo imparando stiamo ricevendo i bambini in questione stanno imparando stanno ricevendo e ci sono questi questi processi di apprendimento che magari tu pensi che il bambino non sta crescendo il bambino non sta ricevendo o tu stesso pensi invece all'improvviso tu sai delle cose incredibili ti si accende delle lambadine o vedi tuo figlio raggiare in certi minuti in certe cose dice caspita come hai imparato queste cose beh hai imparato queste cose perché il buon dio ha messo questo il nostro nel nostro corpo nella nostra vita dice che sono processi di apprendimento che restano invisibili sia gli occhi della persona in questione quindi del bambino sia quelli di coloro che la circondano in qualche modo stanno imparando gloria a dio gloria a dio il sorella Renzi dice studiare non è un obbligo ma deve essere un piacere un piacere per la per col per la conoscenza sta nell'insegnante perso qui il filo sta nell'insegnante sta nell'insegnante coinvolgere il bambino nel piacere dello studio è o è vera una grande verità sulla Renzi bene vi lascio io vi lascio vi lascio io continuo con la mia lettura di questo libro un'infanzia felice cosa che voglio che i miei figli i miei nipoti facciano non l'ho potuto fare con altri figli perché ormai sono cresciuti ma pazienza ma voglio ora trasmettere quello che ho capito Andrea Stern non sono mai andato a scuola storia di un'infanzia felice è tutto per questa giornata dio vi benedica un abbraccio a tutti un buon pranzo una buona digestione e mi raccomando stasera saremo in diretta su www.radioferitalia.it alle ore 18 e 30 e su facebook una diretta su facebook dove dal culto della nostra comunità insegneremo la parola di dio c'è un buon titolo vedete su facebook c'è un buon titolo che parlerò dell'osservare l'osservare è un principio per prosperare se vuoi prosperare se vuoi essere benedetto devi osservare i benedetti e devi osservare anche chi non è benedetto chi sono gli sfigati e quindi allontanarti un po da loro e cercare invece di stare con quelli che come dice la bibbia chi va con i saggi diventa saggi e osservare il principio per prosperare è osservare è uno di queste cose che io sto facendo sto osservando com'era quest'infanzia felice di questo ragazzino ed è il papà intelligente che era un pedagogo molto intelligente god bless you diuti benedica